Campionato italiano Fiddle Cross Master, tutto pronto, organizzazione curata con estrema perizia, appuntamento di indubbio richiamo, domenica prossima 26 febbraio, Chieti torna così a respirare il clima del grande evento, Rocco Marcucci, fondatore ASD Runners Chieti, ma anche responsabile del Corri Labruzzo, e Guido Barbuscio, atleta e presidente dell'ASD Runners Chieti. A distanza di 37 anni? Proprio qui davanti arrivamo con la maratona, allora la maratona era all'inizio, avemmo mille atleti all'arrivo, ed era la quarta maratona più numerosa d'Italia, nel 1986, fu un arrivo meraviglioso dentro lo stadio Angelini, con banda, pieno di spettatori, mi ricordo ancora tutto perché fu un lavoro in mane. Tutte le regioni parteciperanno? Qualcuno ha dato forfè oppure? Manca la Valle d'Aosta e la Sardegna, sono tutti presenti. Quanti atleti in totale? Abbiamo 760 atleti. Parliamo anche del percorso? Il percorso è dentro il lago Teaterno, noi abbiamo chiamato Strateaterno, con un gioco di parole. Sono due laghi, sembra un parco, è una cosa meravigliosa, tutta addobbata, ci siamo lavorando da dieci giorni, perché una corsa su strada è un po' più semplice, perché basta togliere le macchine e si corre. Invece una campestre va tutta segnata, delineata, poi abbiamo delle attrattive lungo il percorso. Non sveliamo? No, no. Non abbiamo svelato nemmeno la medaglia, anche se questa mattina la conferenza stampa, il sindaco e il vice sindaco volevano, tutti gli anni la medaglia la facciamo vedere al primo che arriva. È stupenda, meravigliosa, posso dire che è in acciaio inox, non di più. Presidente, questo è un appuntamento imperdibile che torna a distanza di 37 anni, insomma vi siete preparati al meglio, no? Sì, sì, io 37 anni fa non ero ancora al mondo, però questo sì. Sì, dopo anni e anni di candidature finalmente abbiamo ricevuto il nostro campionato italiano. Il percorso particolarmente selettivo? Ma il percorso è misto, c'era una scalinata che caratterizza appunto il nostro percorso, degli ostacoli da saltare, qualche zigzag, però particolare ma bello. Più che altro è visibile da un punto, è visibile tutto il percorso. Naturalmente i ritmi sono differenti, entrando proprio nel dettaglio perché un conto è correre sulla pista o sull'asfalto, altra cosa invece a corsa campestre. Sì, più che altro essendo master ci saranno dai 35 ai 90 anni, quindi le distanze saranno diverse, i ritmi anche diversi. Il cross è molto più muscolare, più difficile della pista. Insomma, spettacolo garantito. Spettacolo garantito, speriamo solo nel tempo che ci assiste. Domenica vi aspettiamo alla Cotea Terno, dalle 9 che inizierà la prima gara fino alle 14 circa che partirà l'ultima. Stiamo lì.